Parliamo di etica, un tema di cui si parla a mio avviso sempre troppo poco. C'è bisogno di molta più etica invece nei social media e in generale nella comunicazione pubblicitaria che anche gli influencer fanno. Ci sono delle leggi che all'inizio erano molto poco chiare, che poi nel tempo sono diventate un po' più chiare perché all'inizio chiaramente non c'era una regolamentazione precisa su quello che gli influencer dovessero o potessero dire quando fanno attività di promozione di un'azienda, di un brand. Nel 2018 è nata un po' questa tematica, se ne è parlato moltissimo, la stessa Unilever, grandissima azienda che conoscete, è scesa in campo dicendo che non avrebbe più lavorato con influencer che utilizzavano pratiche scorrette, bot, ecc. Da quel momento in cui Unilever è scesa in campo dando una comunicazione così forte, un po' tutto il mercato si è svegliato diciamo da questo lungo sonno e finalmente anche in Italia è arrivata una sorta di regolamentazione che di fatto non è una legge ma è la Digital Chart dell'OIAP, istituto di autodisciplina pubblicitaria, che regolamenta come debba essere comunicata la comunicazione pubblicitaria. Quindi nel caso in cui un influencer viene pagato per fare delle campagne, dei post, delle condivisioni, delle stories questa comunicazione deve essere chiara a chi lo segue, al suo pubblico. Quindi l'utente che si collega sui social deve avere chiaro se sta guardando un messaggio promozionale o meno. Il messaggio promozionale va denominato con delle viciture che sono ADV, ADD, SPONSORED, nel caso di campagne pagate. Nel caso invece di campagne cambi merce, quindi di collaborazioni fatte con l'invio di un prodotto o l'invito in una struttura ricettiva piuttosto che a cena, devono essere segnalate con supply and buy o in collaborazione con il nome del brand. Quindi deve esserci massima chiarezza su quello che l'influencer comunica per rispetto e tutela anche del consumatore quindi dell'utente che è collegato da casa e vede delle comunicazioni, dei messaggi e deve aver chiaro se quel comunicato, quella stories e quel post sono un messaggio promozionale o meno. Quindi questa cosa è abbastanza chiara per tutti ma ancora molti influencer omettono a destra e sinistra i vari hashtag e le varie diciture sbagliando perché ormai è di fatto un obbligo e sia loro che il brand possono incappare in delle denunce, delle segnalazioni anche piuttosto importanti. In Italia in questo caso ancora a pagare è solo l'azienda, quindi l'azienda che ingaggia un influencer che non utilizza questo tipo di hashtag e di comunicazioni coerenti può avere una multa. Di fatto è successo veramente pochissimo, sono pochissimi i casi in cui le aziende sono state multate però ci sono stati e quindi quello che ricordo è sempre la massima trasparenza anche in questo, quindi quando si va ad attivare un influencer si fa firmare un accordo in cui c'è scritto che deve usare questo tipo di diciture che sono quelle diciamo regolamentate e che vanno bene per la legge, per il mercato italiano. Concludo dicendo che ovviamente non è solo un discorso di trasparenza, di coerenza e di chiarezza ma direi che ormai è anche una necessità, cioè è ovvio che sono ormai dieci anni che si comunica in questo modo sui social media quindi è giusto e corretto sia da parte delle aziende che da parte degli influencer seguire le regole che ci sono. In più sta anche a noi utenti che magari seguiamo degli influencer o seguiamo dei brand andare a segnalare quando vediamo che la comunicazione non è coerente. Quindi il consiglio che do sempre alle aziende è quello di informarsi e firmare degli accordi molto chiari con gli influencer in cui ci si tutela assolutamente anche su queste tematiche qua. Di essere sempre molto chiari nell'accordo quindi di scrivere cosa si chiede all'influencer a livello di contenuti, di quantità, di tempistiche e di appunto come va comunicato il prodotto e il servizio. Dall'altra parte però anche lato influencer anche per tutelarvi voi e per non incappare in nessun tipo di situazione poco piacevole mi raccomando sempre di utilizzare tutti gli hashtag, tutte le dichiarazioni, tutte le diciture coerenti. Nel caso abbiate dei dubbi vi ricordo che c'è la digital chart dell'OIAP che vi dà una serie di regole da seguire molto molto semplici.